Cara Selvaggia Lucarelli, io alla veneranda età di 33 anni ho contribuito a costruire un intera di un reparto di terapia intensiva durante il covid, ho raccolto e distribuito più di 5 milioni di euro per un fondo per i lavoratori dello spettacolo, oltre alla beneficenza che faccio io in privato. Ricordati che tu alla mia età l'unica cosa per cui si è diventata celebre è stata quella di aver contribuito alla diffusione del videoporno, del filmino Arda di Belen, oltre ad altre schifezze, quindi ricordatelo, non sarò mai peggiore di te.